Tutto rimandato alla prossima sfida in casa col Curs Palermo. La festa di formazione del Gela ieri non c'è stata. La battuta d'arresto a Paceco contro il Dattilo Noir dura da digerire, durissima ma è inutile recriminare. Serve a nulla. I biancazzurri hanno sprecato il primo match point per il salto in Serie D arrendendosi ai trapanesi. Un 2-1 maturato al termine di una gara combattuta su ogni pallone. Alla fine però ha vinto la squadra allenata da Massimo Formisano che ha messo in campo tutte le energie per sgambettare i più blasonati avversari. E ci sono riusciti. Il Gela ha pregustato la vittoria del torneo con una giornata di anticipo solo per pochi minuti. Una gioia durata appena 120 secondi. Lo spazio di tempo che è maturato dal gol realizzato da Bonafini al 21esimo del primo tempo a quello siglato da Romeo due minuti dopo. I ragazzi del tecnico Totò Bruculeri al 42esimo hanno avuto la possibilità per riportarsi in vantaggio ma la conclusione di Mincica non ha centrato il bersaglio. Il Dattilo Noir non è stato a guardare e ha avuto le sue buone occasioni per battere il portiere Pandolfo ma l'estremo difensore è stato bravissimo. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1-1. Nella ripresa il Gela ha premuto sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio che avrebbe chiuso definitivamente il discorso promozione. Sfortuna ed imprecisione però hanno detto no alla truppa giulese. Incredibile al 18esimo l'occasionissima capitata a Scerra. Il numero 11 l'ha fallita da pochi passi. E quando la partita sembrava essere incanalata sul pareggio è arrivata la doccia fredda. Al 38esimo pettinato in campo da appena 5 minuti ha commesso un fallo in aria. Rigore ed espulsione. Dai 11 metri Romeo non ha fallito. 2-1 per il Dattilo e partita chiusa. E promozione rimandata. A fine partita la delusione tra i biancazzurri era tangibile, evidente. Ma nulla, dicevamo, è compromesso. Domenica c'è solo da vincere e sarà festa. E davanti al proprio pubblico. E sarà, se vogliamo, ancora più bello. Festa, dicevamo, solo rimandata. Al presti non si passa. E lo stadio si colorerà di biancazzurro. La serie D aspetta il Gela e il Gela è pronta a far la sua.